Ma spesso capita di sentirsi stanchi e affaticati. Una delle cause è la difficoltà ad assorbire la vitamina B12, ma si attivisce a darci l'energia di prezzo. Ma da oggi c'è VEGETAL ADVANCE B12, il nuovo integratore specifico, che grazie a un livello elevato e calibrato di 500 grammi di vitamina B12, aiuta a ridurre l'energia di vita e dell'energia. VEGETAL ADVANCE B12, derivi dalla tua energia. VEGETAL ADVANCE B12, derivi dalla tua energia. Grazie a tutti.